Buongiorno ragazzi, oggi siamo nel canale degli 27i a fare delle domande a questi tre individui. Buona visione. Nome vero. Manna, Simone, Ivan. Nickname sulla play. Banzolino, apposa voi. Isamol 2700. Soprannome. Manzo, manzo. App. Isam. Da quanti anni giochi ai videogiochi? Ciao, prima ancora di nascere. No, da tipo... Quanti anni ho adesso? Adesso? Da un primo praticamente, con il mio fratello. Da tantissimo tempo, ancora da quando è uscita da Belbole. Chi è più bravo tra di voi? Io, ovvio. Io. Ruolo nel clan? Il portatore dei cappelli. No, io sono quello che fa divertimento a tutti. Non ci sono quasi più figli. È morto. No, ruolo nel clan per incassare gli altri perché non ci sono. Capo. Quanti mega prende la tua connessione? Questo è un problema, è difficile da rispondere perché... Non ce l'ho proprio il wifi. Ancora la mia! Prima prendeva sui 12 mega così, adesso ultimamente stanno proprio cagare. Cosa preferisci registrare sul canale? No, preferisco registrare quando siamo tutti insieme, tutti e tutti. Tipo quando giochiamo tutti quanti a COD, oppure quando abbiamo registrato il Ghost Recon e io ho poi io ho fatto questo. Credo gli sniper montage. Di tutto, tra gli sniper montage, soprattutto i video, quelli fatti in gruppo. Chi ti sta più simpatico del clan? Sono stato tutto simpatico. Manzulino perché non l'ha detto lui. Ai vecchi tempi voi non lo conoscete ma pezza. Cioè dico solo pezza perché dovrei censurarlo. Che è una pezza? Una pezza. Pezza perché ragazzi era molto simpatico. No, che tipo? Nei vecchi tempi. E adesso... Manzulino, picci. Chi ti sta più sulle palle del clan? A volte Carlo minge boss quando si arrabbia. E a volte Apo quando non viene a sosterra oppure a giocare. Tutto. Manzulino perché non l'ho detto io. Ultimamente Apo perché non partecipo più come prima e molto assente ultimamente sul canale. Bestemi o scleri mentre giochi? Eh, non si può dire. Si, stratanto. Sono su Rainbow. Squad, non lasciamo stare. Non lo scelto a dire. Regia, telecomando. Non credo che... Devo dare una risposta a questo. Chi è il più coglione del clan? Io di sicuro sì. Manzulino. Credo Manzulino è troppo coglione con il ragazzo. Chi è il più serio del clan? Allora, Ivan quando vuole fa il coglione peggio di tutti. Però è lui il più serio quando dobbiamo fare i video e le stareghe, eccetera. Pitch Neri. Pitch Neri. È il più serio di tutti. Che cazzo? Io. Video del canale preferito? Penso alla canzone. Lo sniper montage in cui ci sono le mie clip. Credo la Blue Whale Challenge perché è uno dei miei video più divertenti e riusciti e ha fatto anche abbastanza tanti visuali. Credo la Blue Whale Challenge. Gioco preferito? Foro lo. Cordo barra ringui, spara tutto. Tra fallout 4 metri così. Credo sì fallout 4 metri. Quei genere è survival. Insulta a modo tuo gli altri. Ah può essere un ricchio. Ivan, sono rosso di me. Ivan è un piede del cu... Ma uno invece è un piede. Non sono pesa che stanno... Apo, che peter del cuore. Manu, ma vaffanculo ricchio. Siamo arrivati alla fine dell'intervista. Ora salutate peter. Goodbye. Ciao a tutti. Io sono Apo Zoboi e vi saluto. Perché all'inizio non se lo sono dimenticato. Saluto Antonio. E Antonio lo saluto. Dai via, non ci vogliamo. Abbiamo appena cacciato la canna. Adesso stanno a piangere. Apo, stai piangendo? No. No 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 W